Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla resegna stampa, l'ultima della settimana sono le 7.31 e siamo in diretta, i giornali sono pronti, il resto del Carlino, Corriere Adriatico a disposizione per voi qui sul nostro touchscreen, faremo un escursus delle notizie principali che sono dentro di loro contenute, ma prima naturalmente facciamo sempre come di consueto un salto nell'almanacco e le previsioni del tempo, vediamo oggi San Francesco Saverio, sabato 3 dicembre, il sole è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 16.32, il tempo il tempo, vediamo cosa ci aspetta in questo fine settimana, queste sono le previsioni per lunedì, siamo andati un po' troppo avanti, vediamo, eccole qui, queste di sabato, come vedete una nuvolosità abbastanza intensa, doppia nuvoletta, quindi parzialmente nuvoloso per nubi anche basse, però le precipitazioni non dovrebbero essere presenti nella regione, le temperature sono in ulteriore lieve diminuzione, quindi ancora più freddo, ancora più temperature basse, soprattutto nelle prime ore della giornata, vedete compare anche la simbologia della nebbia, delle foschie sui rilievi, sulle zone interne. Per domani, domenica, sostanzialmente il quadro è lo stesso, cielo poco o parzialmente nuvoloso per presenza di nuvi basse, precipitazioni assenti, le temperature saranno stazionari. Lunedì, primo giorno della settimana, eccole qua, anche qui direi che sono tre giornate da copia in colla, praticamente, perlomeno sulla carta, parzialmente nuvoloso, nubi basse, precipitazioni assenti, temperature sostanzialmente sempre sulla stessa asticella del termometro. Quindi, insomma, questo è il tempo che ci aspetta nel fine settimana. E allora, partiamo con i giornali, guardiamo subito l'apertura del resto del Carlino di Pesaro, come pagina di apertura, titola in alto, non affittate la fiera a Bricofer, dopo il K.O. di ginnastica in festa, gli albergatori vogliono Campanara per il turismo sportivo. E poi, l'università Carlo Bo, incaricata dal governo della Macedonia di datare le centinaia di ossa rinvenute a Gostivar dagli speleologi marchigiani. Insomma, questa è la grotta nella quale sono stati trovati tutti questi teschi, indaga, appunto, Urbino. E poi in basso c'è la cronaca, minacce per l'eredità, arrestato, lettere minatorie, apparenti e danni anche ai loculi e alle tombe. Intanto, notizie buone per quanto riguarda la viabilità sulla nazionale in quel punto famigerato, dove c'è stato quell'incidente che ha costato la vita quella giovane studentessa. Santa Marta parla questo signore, che vedete un po' di spalle nella foto, Sergio Antonazzo, che è un docente, un insegnante di educazione fisica in pensione, che esprime la sua idea. Lui si è fatto già un'idea, perché spostando la fermata dell'autobus i rischi sarebbero già ridotti. La sua proposta è meglio davanti al cancello, no autobus nel piazzale. E quindi, insomma, questa è la sua idea e sono state avanzate diverse ipotesi nei giorni scorsi. C'è stato un vertice in prefettura su, appunto, questo punto così cruciale che desta sicuramente tante preoccupazioni e che presto, speriamo, venga dotato di sicurezza maggiore. Allora, c'è una sentenza, condannato l'uomo del fisco, prometteva e incassava regali, condannato l'ex capo degli ispettori delle agenzie delle entrate, la sentenza corruzione e tentato abuso d'ufficio, i reati per cui è stato riconosciuto colpevole il tribunale di Urbino, è andato a sentenza che è arrivata ieri mattina, assolti invece imprenditori e commercianti. Andiamo nelle pagine di Fano del resto del Carlino, in testa di pagina alla sbarra nove giovani del Grizzly sono accusati di occupazione abusiva della struttura demaniale. E poi seri sull'ospedale unico ci sia un referendum provinciale e quindi, insomma, questa è l'ulteriore proposta del sindaco di Fano, Massimo Seri, sulla questione ospedale. Giudizio universale riemerge grazie alla fondazione Cassa di Risparmio, una mostra per capire a fondo l'opera conservata a Saltara. Stiamo parlando della chiesa del Gonfalone di Saltara, ristrutturata appunto grazie all'intervento della fondazione e vedete qui una parte dell'affresco che è presente ed è visibile ed è questo qui, che adesso vi cerco di cerchiare, ma dietro questo palco che serviva per il coro c'è celata un'altra parte bellissima di questo affresco e nelle foto che saranno a disposizione da lunedì a Palazzo Bracci Pagani nella sala ipogea, quella più in basso, ci sarà tutta una mostra fotografica che mostrerà il lavoro di recupero e le bellezze artistiche contenute in questa chiesa. Andatela a vedere perché sono veramente belle le fotografie. Ancora si parla di politica nel resto del Carlino e soprattutto di politiche sociali, l'allarme lanciato dai consiglieri del vecchio Magrini e Santorelli, addio welfare, loro dicono politiche sociali ridotte per i tagli al bilancio. Poi striscia di Gaza, c'è un fanese dietro il grande Acquedotto, Guido Casanova, progetta un impianto rivoluzionario, lo vedete qui nella foto all'opera in quella zona. Eccellenze Fanesi, quindi spasso per il mondo su importanti siti. Andiamo nel Corriere Adriatico, la pagina d'apertura ve la faccio vedere, fotonotizia centralissima, ecco qua. A volte ritornano, in questo caso è Dustin Hoffman che torna con Rossini, di nuovo testimonial delle Marche, con naturalmente Leopardi nel cuore. E poi Beffa Angar, il grande freddo, rabbia Bucchi, VL al gelo. Salta l'allenamento e i giocatori sono con l'influenza, il comune corre ai ripari. Spettacoli e arte, Mengoni, sold out, annunciato al Palaprometeo. Partiamo dalle pagine di primo piano per le Marche, naturalmente Santa Barbara è patrona dei Vigili del Fuoco e quindi tra le macerie 200 persone salvate. Si tira un po' il bilancio di tutte le attività effettuate nel 2016. Come sempre avviene, il Corriere Adriatico fa un po' una fotografia di quello che è stata l'attività del corpo dei Vigili del Fuoco. Da agosto 49.000 interventi in 150 comuni, infinità Tax Force con oltre 750 Vigili del Fuoco di rinforzo, naturalmente il tutto per il terremoto, l'emergenza terremoto. Eccolo qua, Dustin Hoffman che torna, come si dice, l'assassino torna sempre sul luogo del diritto, lui torna sul luogo della pubblicità. Eccolo qui, il notissimo attore, grandissimo attore americano, noto per il film Il Laureato e Rain Man, forse i suoi film più conosciuti in assoluto. Dopo Leopardi è pronto per il ritorno con Rossini. Il premio Oscar potrebbe firmare la regia del Barbieri di Siviglia per le celebrazioni pesaresi. Eccolo qua, durante uno scatto, durante lo spot che ha registrato. Si parla anche di sanità nel Corriere Adriatico, di sanità che, soprattutto quella pesarese, in questo momento non vive un bel momento per la fuoriuscita di un'eccellenza come il chirurgo Zingaretti. Dalla sanità al tenore di vita, dietro i lustrini, solo Magagne. Siamo Pesaro attacca l'amministrazione da rivedere la graduatoria delle priorità. Andiamo a vedere l'ultima pagina che vi propongo, appunto, di Pesaro e Provincia. C'è stato un convegno a Fossombrone. Difendiamo il sistema pubblico. Ospedali, la riforma da cancellare, sindaci e comitati per il dietro fronte. Appunto, si parla di sanità a livello regionale, soprattutto di piccole comunità e di, naturalmente, insediamenti periferici. Fano, per le pagine del Corriere Adriatico, punta su un, anche questo, un convegno che si è tenuto nella giornata di ieri al cinema, in un cinema qui del nostro, dell'entroterra, nostro qui di Fano, nuovi prigionieri dell'azzardo, patologie raddoppiate nel 2016. Il CONAG, che è il Comitato Nazionale per il gioco d'azzardo, slot e scommesse, sono naturalmente 182 persone, quelle che si sono rivolte all'IRS Aurora, che opera nel nostro territorio. Alcante di Montevecchio ha allestito una comunità per il recupero da questa patologia così impattante sulla società. E quindi, insomma, sicuramente il punto della situazione è pronta anche, fra poco, una legge a livello regionale, proprio, che regolamenterà le sale da gioco e dove dovranno essere ubicate, come e perché. Insomma, il cinema era in malattesta, mi è venuto in mente. Allora, ancora, sempre da Fano, Natale al profumo di mare, i bagnini allestiranno un'area a tema, cambiamo argomento, parliamo del Natale, delle attività che si svolgeranno in tutto il centro storico per queste festività, che sono ricche di eventi, naturalmente il centro è il fulcro, la piazza è il fulcro di questi avvenimenti, ma tutto il centro storico verrà coinvolto da tante attività, dai cortili in gioco alla musica sotto l'albero, tante, tante manifestazioni ed eventi approntate per queste festività. Andiamo anche nella pagina che riguarda la Valle del Cesano e quell'episodio che avete letto anche nell'altra testata. Minacce e tombe profanate per l'eredità, lo stalker in manetta dopo sei denunce. La misura cartelare non è stata però un freno, aveva ricevuto già un alto là dal giudice che gli aveva proibito di avvicinarsi a famiglie, a parenti e di inviare lettere e comunicazioni, non gli è bastato, la sua ira è cresciuta per un presunto, a dire il suo trattamento non in linea con le sue aspettative per quanto riguarda l'eredità e quindi insomma se l'è presa anche con le tombe e adesso è finito in manetta, in manette ed è finito in carcere. Qui c'è tutta l'escalation della sua attività minatoria. Lettere e danni ai loculi per sfregio. Era una persona buona ma ha preso, ha perso la testa. Spesso questo avviene, non che uno perde la testa, avviene spesso che un'eredità possa far scatenare e mettere conto fratelli e parenti, non è la prima volta che accade. Lotta alla prostituzione, maxi multe per lucciole e clienti, pronta la sanzione da 400 euro. Marotta, c'è scritto degnale ma è un refuso, segnale forte del comune per debellare la prostituzione tra via Foscolo e cesanense Senigallia. Andiamo a vedere quello che avviene nella città limitrofa. Secondo il Corriere Adriatico si accendono albero e luminarie e le minimoto scaldano i motori. Anche qui tutta una serie di attività e di eventi si stanno per abbattere sui senigalliesi per le festività natalizie. Vedete anche qui tante sono le prospettive e naturalmente i bambini abbondano, i bambini addobbano le vie, giovedì in piazza Saffi apre la casetta di Babbo Natale per far sì che questi bimbi portino le loro letterine con i desideri, sperando che Babbo Natale li possa esaudire. Allora, sempre da Senigallia un fatto che fa sorridere, se non fosse che non è proprio una cosa ideale, è un viaggio di una lettera che più che un viaggio è un'odissea perché spedita dalla biblioteca di Piazza Manni è stata recapitata in casa di via dei commercianti, però ci ha messo 22 giorni per fare questo tragitto che vedete qui nella cartina essere veramente molto molto breve, 22 giorni per fare questo tragitto di 90 metri, una spedizione lumaca. Che cosa c'era in questa missiva? Era un ringraziamento per il dono di alcuni libri alla biblioteca, nel tragitto però ha fatto anche una sosta in comune, in centro una residente, si è vista recapitare il primo di dicembre una busta inviata ben il 10 novembre. e questo era naturalmente l'ultima notizia che vi facevo notare, insomma ci lasciamo con questo mezzo sorriso tra le labbra grazie per essere stati con noi, termina qui la rassegna stampa di oggi sabato e della settimana e che tornerà naturalmente lunedì mattina alle 7.30 puntualmente qui per occhio ai giornali. tempo permettendo naturalmente buon fine settimana a tutti voi, arrivederci.